Sì, adesso vado, schiaccio quello rosso, per fare cosa, per registrare, e che registro qua? Adesso niente, ah vabbè sta scritto power rosso, vabbè è come il telefonino alla fine, schiaccia e poi schiaccia, poi si vede che sta a registrare, oddio che ci sta, non lo dico, vedo una sbartelina, ma no vanno che me lo mando, ma c'è anche il tazzo? Siamo qui, in visita al lago del Turano, questo è un Repsol, Scusa ma per mandare avanti e indietro, cioè per lo zoom, non c'è, non c'è, non c'è lo zoom, non c'è la mano, lo devi far manuare, lo lascio aperto, non c'è la mano, andiamo, salva a tutti, vai, salva a tutti, salva a tutti, adesso noi siamo in giro per San Marino, stiamo provando a vedere la città vecchia dopo un'ora di parcheggio e un'ora di camminata su Marocca, e finalmente un viaggio insieme, e finalmente il tedesco ci ha dato la carta fino alle 22, ma io non paghiamo il parcheggio, e adesso abbiamo le ragazze lì, e adesso abbiamo suscritto con reperimieno, Iscriviti al P mussolpohimi per nordeltà, questo ne va l'entrata nell'arco che troppo ci ha detto, e' un attore dato abbastanza nu, ma anche a Controller fourti che rinnovate, e' stato qui caz' sua attività. Forse v 진 lettera, stiamo scendendo guarda che bella che c'è qua? ah qua c'è la guardia aspetta qua è un bello questo mi ricordo che era perché loro ancora lavorano ah bene noio asciugati un po' asciugati un po' qui abbiamo questa è la via dove c'è il ma sei da me? sì e Fabio? sì e tu? sì 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 adesso facciamo la cosa che andiamo per funivia dai dai hai presa la funivia? faccio la cosa che adesso prendiamo adesso prenderemo la funivia andremo giù e poi saliamo su poi adesso andiamo giù e facciamo tutta la serata tutta la trame funivia passo via ma andiamo a Camponello il sospallo non 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 quanto quanto ma chiudere è sete hai? hai sete qui è andato e non ho trovato c'è andato andato ma ancora quanto Grazie. Avvocato, buonissimo. Questo è il mio fratello con le scarpe. Il mio fratello con le scarpe. Bellissime, stanno notando tutti e mi fanno tutti i complimenti. Ma che hai detto? Ma che ha detto? Astrozza, guarda dove sta. Guarda dove sta. Ma una giornata si sta sudando. Ma è chiuso. Chi è? La chiesa. Questa che è? È una chiesa? Non sappiamo di chi? Esercitazione di guida. Esercitazione. Esercitazione di guida. Esercitazione di guida. Ma che è? Eh? Ma che è stato? Ma salta! No, stiamo andando su per le torri. Eh? Stiamo andando su per le torri. Eh? Eh? Questa salita. Questa salita. Questa salita. è la pistola. Tantala. Wow. È infatti. È fatto appunto, ma dopo. Ok. Ho messo a guardare. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.